Bene, iniziamo con l'impostazione del nostro corpo, piedi fuori dal tappetino, piedi paralleli, le gambe sono alla larghezza dei nostri fianchi, distribuiamo bene il peso del nostro corpo tra luce, minimo e zandone. Per quanto riguarda il bacino a salire, risucchiamo in dentro l'ombelico per provare a metodizzare la curva fisiologica lombare. Apriamo bene le spalle, diamo le scapole, le braccia sono rilassate lungo il busto, sguardo lontano, stacco bene il mento dal petto. Iniziamo con la nostra respirazione, ispirando dal naso ed ispirando dalla bocca come se pronunciassi una A. Inspiro e quando ispiro lascio le spalle dove sono, uso l'espansione del torace e poi ispiro dalla bocca con la bocca semiaperta e adesso ispiro. Quando vado adesso ad ispirare lascio le spalle dove sono e attacco il mento al petto per ottenere l'allungamento del tratto cervicale. Di nuovo ispiro, salgo su e continuo ispirando, allungando solo il tratto cervicale ricordando sempre la retroversione del bacino e di sentire sempre i piedi ben attaccati al pavimento. Ispiro e salgo su. L'ultima volta e adesso ispirando lascio l'allungamento al tratto cervicale e disegno una piccola mezzanuna avvicinando l'orecchio destro alla spalla destra e alternando sempre il lato. E continuo ad ispirare, rilasso il collo, apro bene le spalle e lascio le scapole unite. Ispiro dal naso ed ispiro dalla bocca. Quando avvicino l'orecchio alla spalla per ottenere l'inclinazione della testa, il mio sguardo è sempre lontano e davanti con tutti e due gli occhi. E l'ultimo a sinistra e torno giù e da questa posizione ispiro e torno ad ispirare e sollevo le braccia abbassando le spalle e le mani si fermano alla larghezza delle mie spalle e ed ispiro e torno di nuovo giù e di nuovo ispiro, mantengo sempre la retroversione del bacino, non inarco troppo la zona lombare e l'ultimo ispiro su e incrocio le dita, abbasso le spalle, le braccia sono le lati delle mie orecchie ed ispirando allungo il busto, ispiro, salgo su. Quando vado ad ispirare attenzione a non schiancare dall'altro lato, il peso del corpo rimane sempre in mezzo ai miei piedi e ispiro, compio l'allungamento, sbaglio uguali, abbasso le spalle con lo lungo e ispiro, l'allungamento parte dal fianco, arriva fino alla mano e ispiro ancora e attenzione a non schiancare, peso del corpo sempre in mezzo e l'ultimo e torno su e piano piano ispirando adesso porto il busto lunghissimo, parallelo al pavimento. Adesso in questa posizione continuo a respirare, stacco il mento dal petto, sollevo le braccia sui lati delle mie orecchie, adesso una linea retta parallela al tappetino che va dalle dita delle mie mani morbide fino al mio sedere e piano piano ispiro, l'allungamento, passando battendo dalla zona lombare, toracica, apro con il letto scatto le spalle e infine la testa. In questa posizione prendo l'aria ed ispirando allungo solo il tratto cervicale verso il basso e piano piano scendo giù, una vertebra dopo l'altra, vuole raggiungere con le mani il mio pavimento, abbandono completamente la testa, sento la testa pesante, continuo a risucchiare dentro l'ombicco e ispirando porto la colonna sul bacino di nuovo, una vertebra dopo l'altra a salire, prima spalla e per ultima la testa per far fare meno lavoro alla zona cervicale e di nuovo ispiro, abbandono completamente il busto e ispiro e risalto, una vertebra dopo l'altra, tratto lombare, torace, scavo le spalle e infine la testa e l'ultima volta e ispiro, scendo giù, faccio come se qualcuno mi dessi acqua sotto sulla pancia, distanzio bene le scavole e metto le mani in terra, se non riesco fletto leggermente le ginocchia, l'importante è che seguono la linea delle dita dei miei piedi e che non si uniscano verso il giudello e da questa posizione piano piano cammino in avanti, sposto l'asse, vado fuori l'asse per cui adesso non ho più il bacino sulle mie gambe, sui miei talloni, ma leggermente in avanti, lascio i talloni lì dove sono belli e inizio a schiacciare la schiena contro le mie cosce, allungo, allungo, abbassare le spalle, allontanare dalle orecchie, non attaccare il mento al petto e lasciamo i talloni dove sono, inspiro, porto le spalle, inspirando sui miei corsi ed espiro, schiaccio l'ungolo con l'uomo e continuo secondo la mia respirazione, inspiro, attenzione, ma le ori non si uniscono verso l'interno altrimenti anche le ginocchia, si unirebbero, respiro e allungo schiena, inspiro, guardo in mezzo alle mie mani e espiro, allungo tutta la parte posteriore delle mie gambe, inspirando, porto le spalle sui miei polsi, inspiro, allungo, e ancora molto, e spiro, e da questa posizione inspiro, stacco definitivamente i talloni e vado in posizione di quadrupedia. Ok, siamo adesso in posizione quadrupedica, stacco bene il mento dal petto e il mio sguardo è rivolto in mezzo alle mie mani che cadono esattamente sotto le mie spalle, sento bene le braccia, risucchio in dentro l'ombelico, provando ad intervizzare la curva fisiologica lombare anche in questa posizione, le ginocchia sono staccate, sono alla larghezza dei miei fianchi e cadono esattamente sotto i miei fianchi, da questa posizione, quindi adesso ottengo una linea parallela che va dalla testa fino al mio sedere, parallela al tappetino, prendo l'aria, inspirando, ed espirando lascio scivolare la gamba lunghissima, su, per prolungare la mia linea retta, mi ho preso il corpo, lo scarico su entrambe le mani, su ginocchio che rimane a terra, piede a martello, adesso questa linea che va dalla testa fino al tallone, prendo l'aria e respirando, prolungo ancora questa linea retta, annotando anche e staccando dal pavimento il braccio opposto alla gamba, abbasso le spalle, non mi lascio trascinare la mia gamba, la spalla rimata, il mio braccio, la gamba, risucchio dentro l'ombelico, provando di neutralizzare la cura fisiologica lombare, anche in questa posizione, non vado in exalotazione dell'anca, il bacino rimane sempre che guarda il tappetino, e da questa posizione, inspirando, faccio dare un bacio al gomito e al ginocchio, un po' posto sotto la mia pancia, e espiro, al lato, il movimento parte dalla spalla e arriva fino alla mano, parte dal bacino, dall'anca, e arriva fino al piede, per cui il busto è praticamente fermo, e spiro, stacca sempre il movimento dal petto, abbasso le spalle e lascio lì dove sono, il ginocchio guarda sempre a terra anche le dita dei piedi, e per 5, abbasso le spalle, non muovo la spalla dal colso che ho a terra, e lo stesso faccio con il fianco e il ginocchio opposto, e da questa posizione mantengo l'equilibrio, l'ispirando, torno prima con il braccio e poi con la gamba, prendo l'aria ed espirando allungo l'altra gamba, attenzione sempre a non andare in exalotazione dell'anca, della gamba che ho sollevato, ed espiro e allungo l'altro braccio, e ispirando 5, abbasso le spalle e allontano dalle orecchie, il braccio è sempre al lato dell'orecchio, e ispiro, e allungo, e succhia sempre dentro l'ombelico, soprattutto quando vado a sviluppare la gamba allontano dal mio centro, non inarco la schiena, e 2, stacca il mezzo dal petto, guarda sempre in mezzo alle mie mani, e 1, e ispiro, e ispiro, e piano piano mi siedo sui talloni, rimango col sedere incollato ai talloni e allungo le braccia, come se volessi prendere un oggetto lontano, metto in scarico la mia colonna, respiro, confio la faccia contro le cosce per abbassare il diaframma, e ispiro, e abbandono la testa, ispiro, e riempio bene i colmani, abbasso il diaframma, e l'ultima volta, e questa volta ispirando, vado leggermente in avanti, poggiandomi sui gomiti, adesso questa volta sono i gomiti che sono sotto, cadono certamente sotto le mie spalle, stacco il mezzo dal petto, risucchio e dentro l'ombelico, per annullare la curva fisiologica, lombare, e da questa posizione, prego l'aria appuntando dei piedi, e spilando, vado in sommetria, prego l'aria, abbasso le spalle, vi concentro, stacco il mento dal petto, mi guardo in mezzo alle mie mani, sento bene i gomiti sotto le mie spalle, risucchio e dentro l'ombelico, stricchio e dentro l'ombelico, unisci le scapole, gambe alla larghezza dei miei fianchi, faccio bene, calco bene il peso, tutte e cinque le dita per ogni piede, non verso l'esterno, tutto parallelo, inspiro dal naso, respiro dalla bocca, questo esercizio, come ben sappiamo, lo ripetiamo per tre volte, un minuto di plac per tre, alternato allo scarico della colonna con breve filazione, terminati i tre minuti di plac intervallati dalle respirazioni con lo scarico della colonna, adesso inspiriamo, apro bene le spalle, connetto sempre le scapole, mi siedo col sedere sui talloni e adesso inspiro, andando in iperestensione leggera del tratto cervicale, ed espiro e scendo giù, una vertebra dopo l'altra e allungo, rimango sempre riseduta sui talloni, quindi allungo bene le braccia, inspiro una vertebra dopo l'altra e salgo su, poggio sul bacino, prima tratto lombare, poi torace, scapole, spalle e infine spesso, sguardo lungo, non spezzo la linea del collo e di nuovo respiro, una vertebra dopo l'altra, rimango le braccia, abbatto le spalle da lontano dalle orecchie, spiro e in questa volta vado su, attenzione a non inarcare la schiena e succhio sempre dentro l'obelico, retroversione del bacino anche in questa posizione, le mani sono morbide e cadono sulle mie spalle, allungo bene il collo e da questa posizione, piano piano, e spiro e mi siedo sul piano, e rimango con il busto perpendicolare al tappetino, e inspiro, salgo su, e utilizzo la forza del gluteo dell'addome delle gambe, e spiro, mi siedo completamente su di un lato, e spiro, salgo su, e per provare ad aiutarci possiamo abbassare le spalle e darci la spinta e salire su, attenzione a non unire le ginocchia, sono sempre alla larghezza dei miei fianchi, abbasso le spalle, allungo su, e spiro, e spiro, e ultimo, e salgo su, e scelgo, benissimo, finora abbiamo visto la posizione in piedi, la quadrupedica, e adesso in quella seduta, benissimo, quindi, mettiamo bene, dobbiamo sentire bene gli schi a terra, che sono queste ossa sotto del bacino, per cui o scivoliamo leggermente in avanti alla base del nostro tappetino, oppure solleviamo i nostri punti, le gambe sono comode, un piede contro l'altro, apro bene le spalle, devono cadere sui miei fianchi, risucchi e dentro l'omelico, collo lungo, da questa posizione iniziamo ad ispirare, portando il busto leggermente in avanti, abbassando le spalle, connettendo le scapole, ed ispirando, non attacco il mento al petto, vado in leggera cibo, distanziando le scapole, e continuo a seconda della mia respirazione, e spiro, e spiro, andando alle spalle, collo lungo, e spiro, risucchi e sempre indietro, l'omelico, distanzio le scapole, ma non attacco il mento al petto, prendo l'aria, e posso stare anche comoda, con le mani sulle ginocchia, e spiro, andando attenzione al collo, e ultimo, e da questa posizione, ispirando, porto le mani in preghiera, con le dita che mi bloccano il mento, e i corsi che sono fermi sullo sterno, per evitare che la testa vada a destra e a sinistra, passo le spalle, connetto le scapole, prendo l'aria, ed ispirando, eseguo la mia torsione, ispiro, torno dalla posizione, nella posizione da cui sono partita, e ispiro, cambiando, le spalle tornano sempre sui miei fianchi, e ispirando, che io permetto alla colonna di arrivarsi ancora di più verso l'alto, per cui ispiro, e ispirando salgo ancora più su, e, risulta sempre dentro l'omenico, attenzione a non chiudere il ginocchio opposto al lato, in cui sta andando il mio gusto, e sento sempre bene il peso, ben distribuito su entrambi i due, e ispiro, torno al centro, ed ispiro, e aspetto alla posizione che parte dall'omenico, bene, e da questa posizione torno con le gambe parallele, le ginocchia guardano il soffitto, e continuo a respirare, metto le mani sulle ginocchia, e spingo la pancia contro le cosce, ed ispirando, attenzione a non chiudere le ginocchia quando vado indietro, stessa distanza che hanno i piedi, devono avere anche le ginocchia, continuo a risuttiare dentro l'omenico, e ispiro, vado in leggera contrazione dell'addome, distanzione, scapoli, ispiro, connetto tutto con gli stessi, ispiro, e ispiro, e da questa posizione, piano piano, ispirando, voglio attaccare una bellebra dopo l'altra, e scendo giù piano, e piano piano le braccia a terra, fanno una circonduzione, arrivano lunghissime lungo il busto, e piano piano, una vertebra dopo l'altra, voglio staccare tutto il mio busto dal tappetino, e ispiro, uno, due, tre, e ispirando di nuovo, porto le braccia sui miei fianchi, braccia lunghissime parallele al pavimento, e di nuovo, attacco una vertebra dopo l'altra, come se fosse una figurina che si incolla e si scolla dall'album, le braccia lungo il busto, stacco il messo dal tappeto, salgo su, come se mi si accorciasse la pancia, e la vertebra dopo l'altra, stacco la stappetino, nella schiena, non stacco i spingi, allora giù e in mezzo, resti in dentro sempre, non mi dico se non mi trovo male la zona globale, rilasso il collo, non attacco il mento al pezzo, distanzio sempre le spalle dalle orecchie, circonduzione le braccia a terra, e stacco su, attenzione, distribuisco bene il peso del colpo sia al lato destro che al lato sinistro, nel mio corpo, per cui penso non scendere più da un lato, piuttosto che da un altro, e continua, fai pesare la pancia, spingi la pancia in dentro, non mi dico in dentro, in modo tale che la zona lombare sia sempre attaccata al tappetino, e da questa posizione, adesso leghiamo alle ginocchia, sento sempre bene gli schiena, a terra, apro bene le spalle, connetto le scapole, allungo bene le braccia, allontano un po' il basso delle cosce, e inspirando, salgo su, ok, mantengo questa posizione, con le scapole e il basso delle spalle, allungo vado in leggera C del busto, gambe parallele, anche all'angolo del coscia e gamba, braccia lunghissime, e andiamo al prossimo esercizio, andes, per cui durata di un minuto, cento colpi di braccia, cinque ad ispirare, cinque ad ispirare, e inizio, risulti e dentro l'ombelico, altrimenti mi fa male la zona lombare, concentra, mi stacca il mento dal petto, braccia lunghissime, non muovo ne tanto che le mie braccia, il movimento parte dalla spalla e arriva alla mano lunghissima, risulti e dentro l'ombelico, gambe parallele, anche l'angolo del ginocchio, da dove doveste farmi male il tratto lombare, posso tranquillamente appoggiarmi e adattare a continuare l'esercizio in questa posizione, da dove doveste continuare a farmi male, non ce la faccio, non ce la fa, la dove sostenermi, posso salire su con gli schiattati e continuare il mio esercizio per un minuto, utilizzando solo la respirazione e il movimento delle mie braccia, e ora alla fine del mio esercizio, di un minuto, stendo le gambe, e vado in posizione di vista, respira, concentra, stacca bene il mento dal petto, usci le scatole, prendi bene le gambe, parassare e allunga le dita, rilassa il piede, se non ti vengono i bravo, pensi, andiamo avanti, metto le mani qui sul cavo, con il video, mi appasso bene le spalle, con lo lungo risucchia sempre dentro il piede, se non mi fa male, la zona non pare, prendo l'aria, e espirando stendo le gambe, e vado in posizione di diesel, e inspiro, e stendo allungo bene, le gambe, e inspiro tutto parallelo, stessa distanza che hanno le ginocchia che devono avere, anche i miei miei miei, e prendo l'aria, passo leggermente la gamba, segmento il ginocchio e il piede, e poi vado su, ispirando, connetti bene le scape, e inspiro, ripeto l'esercizio per il cibo, e in questa posizione di canopiano lascio le gambe, e ispirando, porto i piedi a terra parallelo, prendo l'aria, ed espirando adesso, attacco tutta la mia colonna una vertebra dopo l'altra, e cambiamo posizione, posizione, supina, parto dalla testa, per cui sacco bene il mento dal petto, in modo tale che il collo non sia appoggiato al fattentino, spingo le spalle a terra, misco le scapole, risu che dentro l'ombelico, attenzione, devo sentire tutta la colonna a terra, tranne il tratto cervicale, per cui faccio collassare la mia pancia nel suo basso, che spinga la zona lombare, a terra, braccia lunghissime, come se le mie mani volessero toccare i miei talloni, le ginocchia guardano il soffitto, le gambe sono parallele, sento bene tutti e due i piedi a terra, e da questa posizione, ispirando, con un colpo che parte dai glutei, salgo su, con la gamba, il ginocchio piegato, ampio all'angolo del ginocchio, attenzione, le ginocchia non devono mai superare i miei fianchi, per cui non avvicino troppo la mia coscia al mio centro, ma rimane sempre lì, perpendicolare, spingo sempre a spalle a terra, rilasso il collo, e da questa posizione, prendendo l'aria, e cosa faccio? Allontano dal mio centro una gamba alla volta, e ispiro, porto lungo la diagonale, la mia gamba, ispirando invece rientra, non superando il mio fianco, e ispiro, cambio, e ispiro. Continuo secondo la mia respirazione, quando ispiro, io compio il movimento di allontanamento della gamba dal mio centro, e ispiro attorno alla posizione da cui sono partita. Io sto muovendo soltanto le mie gambe, sto compiando l'esercizio con le mie gambe, ma penso a tutto il mio corpo, sto staccando il mento dal petto, ho le spalle attaccate al tappetino, le braccia sono lunghissime, con i palmi a terra, sto rischiando in dentro l'ombelico, sento tutta la colonna tranne il tratto cervicale, a terra, e le mie ginocchia tornano perfettamente sui mie fianchi, le gambe sono lunghissime, le ginocchia sono tese quando sviluppo la gamba lontano da me, le mie gambe sono parallele, e ripeto questo esercizio, ispiro, 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 terci posse, e poi tiro, gambe al vetto, spingo spalle a terra, e scioglio il collo, ispirando attacco orecchio destro, cacco il mento dalle spalle, ispiro, e cambio, e volto la bacia contro le cosce per abbassare il diaframma, e poi mi libero dell'aria quando eseguo la torsione del tratto cervicale, ispiro, e da questa posizione, ispirando, torno di nuovo con le gambe, lontane dal mio busto, apro le braccia, abbasso le spalle, connetto le scapole, palmo di volta a terra, prendo l'aria, ed ispirando, lascio le spalle a terra, e mantenendo 90 gradi, cosce al busto, e ispiro, eseguo la torsione della colonna, e ispiro, passo per la torsione urbana, mantengo parallele le mie gambe, ed ispiro, cambio lato, guardo sempre su, stacco il mento dal petto, inspiro, e ispiro, spallo opposto al lato, le gambe a terra, e ispiro, sto utilizzando l'addome per risalire, mantengo sempre le gambe alla stessa distanza, alla distanza dell'apertura dei miei fiammi, e ispiro, compio il movimento, e ispiro, torno alla posizione da sopra, per cinque, a destra, e poi a sinistra, e ritorno, prendo l'aria, ed ispiro, e divento una pallina, tengo l'autorità della mia colonna, stacco il mento dal petto, come se avessi un filo che mi costringe a stare sempre con la stessa distanza, testa, fronte, e ginocchia, prezzo l'aria, e stacco, e da questa posizione inizio con rolling leg a ball, un altro esercizio, attenzione, non è più per il mento al petto, mantengo sempre la rotondità della colonna, mi ritengo le gambe parallele con le mani, prendo l'aria, ed ispirando non arrivo al collo, mi fermo l'escavole, stacco su, non ci vuole tanta forza, bisogna dosarla, e ispiro, e prendo l'aria, e continuo, e tre, e ispiro, possiamo anche variare, aprire le ginocchia, prendere l'aria, e ispiro, rolling, stacco su senza affoggiare i piedi a terra, passo le spalle, e rilasso, ok, siamo ritornati in posizione seduta, chiudiamo le gambe, le raccogliamo da un lato, e saliamo sulle nostre ginocchia, e da questa posizione, vado indietro, e turno su, benissimo, che cosa devo fare adesso? Sento sempre il peso del corpo ben distribuito su tutto il piede, allargo le dita, faccio vedere bene un arco plantare che guarda l'altro, distanzio bene, ma ne ho in modo tale che anche i ginocchia non si uniscono, rilasso il busto completamente, sento che si allunga tutto il tratto cervicale, tutta la muscolatura paravertebrale, abbandono completamente le braccia, e piano piano, una dente per dopo l'altra, foggio tutta la mia corolla sul bacino, a salire, prima zona lombare, torace, unisco le scappole, e salgo su e respiro, apro le spalle e... e ancora respiro, e passo le spalle, le braccia si muovono sempre, come se fosse bidimensionale, non vanno né in avanti né indietro rispetto al mio uso, si muovono sempre sul piano, e spiro, e ultimo, e sciolgo spalle, prima in un verso, senza narcare troppo la zona normale, mantengo sempre la riposizione del bacino, e poi nell'altro verso, e salgo su, e con il tuo scappole, adesso mando le braccia leggermente indietro, vado in contrazione, e ronda una dente per dopo l'altra, possiamo farlo diverse volte, e lo facciamo per tre, e ispiro, prima con il tuo scappole, vado in contrazione dell'addome, e abbandono, giù nel busto, e risalgo sempre, una dente per dopo l'altra, e su, e in maniera fluida, e riempio tutta la mia respirazione, un movimento sia ad espirare, che ad espirare, e grazie, abbiamo, e, vi aspetto alla prossima lezione, nella quale vedremo nuove posizioni, e nuovi esercizi, Chiara è con voi, vi mando un bacio grande, la FIP, le stendenze è con voi, ciao!